Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Ben trovato. Ben arrivato. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. È come una guerra molecolare fatta in cielo di un firmamento di guerra stelleri. Insomma, in poche parole, la scuola italiana è una stronzetta generale. Chi vuole appartenere a quella stronzetta se ne va in un'altra scuola. Perché qui da me due sono le cose. O si riga dritti o si riga storti. Nel senso che mi spezzo la quinta verte per la spina dorsere. E camminate storti. Ah, per chi non mi conosce mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore, dottore, cavaliere del lavoro, grande ufficiale, Rodolfo Calabrone. Questa è un'indonazione che già conosco, do minore, credo. Pacetti? Pacetti! Vieni qua, Pacetti. Adesso io ti mando a casa così ti racconti tutto a tuo padre, eh? Ma no, signor preside, papà, immanesco, quello minimo mi spacca la testa. E per questo ti mando a casa, se no ti manderò a fare il culo. Ok. Non dirò che che mi dai nervi, vottene, vottene. Entrare, entrare. Di qua. Passate di qua. Entrate. Buongiorno. Stop. Un momento. Stop. Tu che c'hai qua dentro? L'angiafiamma? Bazzucola? Fai vedere, bomba meno, che c'hai? Oh, due fionde abbiamo addirittura, due. Beh, capisce, se se ne rompe una, allora... Beh, giustamente l'altra è di ricambio. Ma dico io, ancora dovete giocare con la roba dei bambini di tre anni. Come devo fare con voi? Come devo fare? Fai vedere. È carina però, eh? Bella. Come quella di mio figlio, così ce l'ha. Tira i duecento metri. Fai provare? Tu devi prendere per il culo a me, eh? T'ho toccato con le meni, io? Entra? Entra? Ma mazzafionda a scuola, porta. Entrare, entrare. Presto. Buongiorno, signore. Stop. Tu ce la faccio il brigatista. Che c'hai addosso? Bomba meno? Giubbetta di proiettile, fai vedere. Ah, 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 ah. Tu ce le bomba meno. Signor Presidente. Oh, scusi. Devo scambiare per bombe dure. Prego. Prego. Entrare. Vieni qua, tu. Tu ce la faccio a droghetto. E c'hai la scicciola, i cocaina, le sedia, i cabi. Che droga c'hai? Pepe, Canella e noi siamo scambiare. Tua sorella fa la puttana macerata. Entra? Se non fa lo spirito, scambiare. Noi siamo scambiare.